Buongiorno a tutti, buon Azure Day anche da parte mia. Sessione a tema intelligenza artificiale in cui parleremo di Kernel Memory, una libreria di Microsoft che mi sta molto a cuore e tra poco capirete perché, che ci permette di realizzare soluzioni di fatto di creare delle vere e proprie chat per interagire con i nostri dati, i nostri dati privati tipicamente e in questo caso oggi essendo un Azure Day vedremo come utilizzarla per sfruttare tutti i servizi che abbiamo a disposizione su Azure. Quindi una serie di 3-4 servizi, anzi 3 servizi in particolare che andremo ad utilizzare, vedremo come orchestrarli utilizzando questa libreria. Spoiler, sarà veramente semplice utilizzarla ed è uno dei motivi per cui mi piace veramente questa, questa libreria. Ringraziamo naturalmente gli sponsor grazie ai quali eh questa giornata come queste, giornate come queste sono postibili quindi grazie di cuore a tutti voi ed entriamo subito nel vivo. Parliamo di eh Retrieval Augmented Generation ovvero il la possibilità di eh andare nel momento in cui andiamo a fare una domanda a un nostro al nostro chat GPT di turno diciamo così eh la possibilità di eh ottenere una risposta che non è derivata soltanto da quello che è il modello che stiamo sfruttando ma una risposta che viene diciamo eh generata a partire da informazioni arricchite sulla base di una nostra knowledge base di qualunque tipo sia quindi di fatto questa immagine riassume un pochino il principio di funzionamento io faccio una domanda al sistema prima di creare il prompt che vado a inviare al OpenAI Azure OpenAI come vedremo nel nostro caso recupero delle informazioni che vengono utilizzate per creare veramente il prompt stesso della serie tu eh io ti do una serie di informazioni questa è la domanda a cui di cui voglio la risposta cerca di generarmi effettivamente un contenuto che possa essere significativo per me questo è veramente ad alto livello non accenderemo troppo nei dettagli perché ci tengo a farvi vedere il funzionamento e come diciamo una libreria come kernel memory permette di orchestrare tutto questo per darci un valore aggiunto molto importante però qualche nozione diciamo di base del funzionamento naturalmente è fondamentale tutto questo eh nasce eh parte con il concetto dell'embedding che è la base di questo sistema della retrieval augmented generation l'embedding questa non è quella che vi do adesso non è la definizione diciamo eh da da dizionare la definizione ufficiale però è il modo in cui a me piace di solito descriverlo è una sorta di rappresentazione numerica del contenuto e del significato semantico di una frase un un testo anche una singola parola quindi a fronte di un testo io ottengo una serie di numeri che in qualche modo lo descrivono ecco diciamo così qui è una rappresentazione giusto per dare un esempio un pochino più eh preciso di che cosa si tratta se io voglio calcolare gli embedding di uomo donna re regina a fronte di questa parola abbiamo parlato di un contenuto semantico il mio modello mi dice che l'uomo ha una vicinanza perché poi di fatto in questo caso si parla di vicinanza di concetti di fatto passatemi questa espressione con il concetto di essere vivente una vicinanza del meno 0,2 al concetto di felino 0,8 di umano 0,9 di genere la diciamo l'embedding sono numeri da meno 1 a 1 ok e quindi in questo caso io ho una rappresentazione numerica dei concetti espressi dalla parola o dal testo come dicevo che io vado a sottoporre al mio sistema di embedding che non è altro che un modello così come abbiamo modelli gpt35 il 4 il 4 turbo il gpt4 o ci sono dei modelli ad hoc che fanno proprio l'embedding nascono per questo sicuramente se avete utilizzato almeno una volta open AI anche solo per sentito dire conoscete l'ADA il modello ADA l'ADA 002 che è diciamo è stato il primo che di fatto ha è stato conosciuto veramente in questo in questo settore adesso in questo diciamo in questo scenario adesso ci sono i modelli 3 small e large che sono modelli più avanzati però il concetto naturalmente lo stesso quindi almeno a meno di appunto senza andare troppo nel dettaglio scusate immaginiamo che questo funzionamento sia basato appunto su un approccio di questo tipo un modello che trasforma il testo in numeri una volta che noi abbiamo questi numeri il computer sa lavorare meglio con i numeri ovviamente che con il testo noi possiamo farci tante cose interessanti ad esempio possiamo calcolare quella che è la distanza cosenica la distanza del coseno che in pratica mi dice quanto una frase una parola un concetto come al solito è vicino ad un'altra quindi ad esempio in questo in questa matrice vediamo che i biscotti sono vicini zero al concetto di fotone naturalmente ognuno il diciamo così naturalmente il concetto si può vedere come distanza del coseno piuttosto che similarità del coseno dipende da che parte la guardiamo in questo caso questa in realtà sarebbe la distanza e quindi la similarità è zero uno l'ho detto prima l'ho detto al contrario perché la formula ovviamente è semplice la distanza del coseno è uno meno la similarità quindi di fatto a noi quella che interessa è la distanza se facciamo uno meno zero nove otteniamo zero uno che è la vicinanza quindi la distanza di fatto tra il tra biscotti e potoni naturalmente qui abbiamo tutti i zeri sulla diagonale che significa che ogni termine è vicino uno con se stesso e quindi rappresenta il valore diciamo il punto di riferimento quindi possiamo vedere altri scenari il il potone con la fisica 0 57 il se andiamo avanti abbiamo questi valori che c'era perché vanno intesi come vi dicevo quindi lo guardiamo o dal punto di vista della distanza della similarità con valori appunto basta fare uno o meno per trovare il corrispondente questo è solo per raccontarvi ripeto ad alto livello perché lo scopo di questa sessione fare vedere poi come tutto questo si incastra con una libreria come quella di kernel memory questo però è un minimo diciamo di descrizione molto ad alto livello per spiegarvi come vengono interpretati i numeri sono numeri e noi ci andiamo a fare dei calcoli sopra li ordiniamo li facciamo qui una differenza li ordiniamo e così via estraiamo dei dati e adesso vedremo naturalmente come per capire come fa funzionare il nostro sistema torniamo quindi alla slide iniziale per spiegare questa parte qui che adesso poi naturalmente ne vedremo in pratica questo retrieval query questo retrieval text che cos'è è semplicemente lo metto tra virgolette naturalmente il semplicemente il fatto di andare a prendere un un testo calcolarne anzi una domanda di fatto perché noi partiamo da questa calcolare gli embedding dopodiché confrontare quegli embedding con tut con una serie di embedding che noi abbiamo pre calcolato a partire dal nostro testo in questo modo vengono estratti i primi x diciamo documenti o porzioni di documento che hanno una similarità del coseno diciamo superiore di una certa soglio semplicemente quelli che hanno la similarità più alta se immaginiamo appunto il range che dicevamo prima tanto più la similarità è vicina a uno tanto più diciamo il contenuto semantico della nostra frase rispetto a un testo dovrebbe essere simile quindi se ricordiamo questa 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 mappa nel momento in cui noi abbiamo qualcosa più vicino a uno è più facile che la nostra domanda si avvicina dal punto di vista semantico al contenuto per cui appunto c'è una similarità che tende a uno passatemi di nuovo questa espressione quindi io recupero questi dati dopodiché li uso per popolare il prompt che contribuisce poi a farmi ottenere la risposta vera e propria ok e adesso arriviamo a kernel memory perché quello che vi ho raccontato anche senza scendere troppo nei dettagli sicuramente vi sembrerà qualcosa di non banale perché devo prendere io vi ho detto devo prendere il testo devo trasformare gli embedding quindi devo avere la rappresentazione numerica poi ho detto un punto fondamentale devo confrontarlo con il con embedding che mi sono già calcolato a fronte di un mio testo quindi io devo creare quella che all'inizio chiamato come knowledge base quindi devo caricare i miei documenti nella slide del titolo abbiamo parlato di documenti privati quindi devo caricare le mie informazioni da qualche parte in modo che io poi possa calcolare gli embedding della mia domanda e confrontarli con questi e a quel punto devo creare il prompt e ottenere la risposta come detto gli step non sono pochi kernel memory una libreria che ci aiuta in tutto questo e come vi dicevo mi piace parlarne perché di fatto io sono uno dei contributor della libreria perché ne ho trovato immediatamente il valore aggiunto nell'utilizzo nell'implementazione di soluzioni rag e quindi sono contento di poterci collaborare ho aggiunto tutta una serie di funzionalità che secondo me aiutano nel nello sfruttare veramente una libreria di questo tipo che si occupa per noi di fare tutto quello che vi ho raccontato per questo non vado troppo nei dettagli anche nella presentazione del diciamo di come funzionano i singoli step proprio perché questa libreria ci nasconde tutto poi noi daremo un'occhiata sotto il copano per capire effettivamente cosa succede per essere anche diciamo a conoscenza del diciamo di tutti gli step però in generale questa libreria astrae per noi tutto quello che abbiamo raccontato la parte di salvataggio dei dati e la parte anche poi di domanda e ottenimento della risposta entriamo subito nel concreto perché qui secondo me è dove veramente si apprezza il suo il suo il suo valore immaginiamo noi vogliamo lavorare su azure di avere un'architettura del genere che se al di là che noi utilizziamo i servizi di open ai e tutti i servizi comunque di azure è un'architettura di un sistema chiamiamolo tipico non diciamo non particolarmente complessa però un tipico sistema che potremmo avere su azure è un sistema di questo tipo noi abbiamo detto che abbiamo una parte quella che viene chiamata di ingestion dove noi carichiamo dei file perché sono quelli che rappresentano il nostro contenuto i nostri dati privati che come ho descritto nella diciamo nel titolo della presentazione questi dati vengono inseriti in una coda perché ovviamente elaborare i dati sappiamo benissimo lavorando con open ai sappiamo che c'è un delay le risposte non sono in tempo reale perché dietro ci sono modelli che girano elaborazioni che servono che richiedono anche dei secondi abbiamo una co i messaggi tipicamente noi quello che dovremmo fare mettere in una coda ci dovrà essere qualcosa che scoda questi messaggi in modo che l'operazione possa avvenire in background questi dati devono essere salvati da qualche parte per poterne poi fare la parte di ingestion vera e propria quindi dovranno essere salvati su uno storage account siamo tutto su azure abbiamo detto quindi limitiamoci a questo mondo nel momento in cui i dati sono stati calcolati i dati scusate sono stati estratti e salvati sullo storage account dobbiamo calcolare il gli embedding e questo lo facciamo con open ai service dopo di che dobbiamo salvare da qualche parte per poter poi andare a interrogare e questo lo facciamo con i search quindi abbiamo della web app abbiamo uno store una storage q uno storage account e poi si di fatto detto tre barra quattro di fatto in realtà sono quattro i servizi perché abbiamo open ai service ai search che serve per ottenere gli embedding e poi andare a salvare viceversa quando poi dobbiamo andare a recuperare le informazioni l'utente utilizza la web app la web app va a deve andare invocare open ai service per ottenere gli embedding della sua domanda e interrogando ai search avere poi la risposta che passa a dopo di nuovo al servizio pen ai che effettivamente crea il testo vero e proprio come detto questo può sembrare complesso perché di patto ho tutta una serie di servizi che vengono utilizzati insieme quindi ho una pipeline non banale perché mi piace kernel memory perché dopo aver fatto una configurazione che come vedremo è veramente molto semplice la parte di ingestion è questa io faccio scrivo una sola riga di codice e questo mi scatena tutto questo mondo mica questo singolo a questa singola istruzione carica il documento su una storage queue che va poi a salvare il file dentro uno storage account ne calcola gli embedding e li salva su ai search con una riga di codice ho ottenuto tutto quello che vi ho raccontato perché sono partito diciamo dalla descrizione iniziale ho voluto dettagliarvi tutti questi servizi proprio per farvi venire in mente la complessità di quello che poteva richiedere un sistema del genere e poi arrivare con la soluzione di kernel memory che è una riga di codice d'altra parte per fare una query ottenere la risposta è un'altra riga di codice io gli chiedo gli faccio un ask di una domanda relativa a un documento o n documenti che ho caricato per ottenere poi la risposta e quindi per fare il giro contrario quindi questa prima istruzione fa i dati diciamo 2 3 e questo chiamiamolo che è complessivo che utilizza tutti questi servizi lo step 5 quindi fatto 4 e 5 diciamo così è fatto da questa istruzione quindi capite bene quanto è comodo sfruttare un sistema del genere demo ovviamente ho parlato anche troppo andiamo a vedere come è fatta l'applicazione e vi faccio vedere prima lavoriamo su disco e poi vi faccio vedere che cosa vuol dire passare su azure quali sono i vantaggi nell'avere una una soluzione del genere a premessa questa è una libreria molto molto in sviluppo poi appunto essendo un contributor seguo veramente tutti gli sviluppi l'ultima versione è stata rilasciata cinque ore fa che ovviamente ho già aggiornato prima di questa sessione e quindi stiamo provando qualcosa veramente in in corso di sviluppo veramente attivo quindi stiamo usando una cosa appunto di poche ore fa come funziona una libreria di questo tipo io ho creato una semplice web api ovviamente per chi mi conosce sa che questo è il massimo della ui che vedrete con me quindi su agger che utilizza direttamente una una web p una minimale pia in questo caso io gli vado ho bisogno di usare n servizi di cui abbiamo parlato prima e quindi cosa faccio nei servizi aggiungo che nel memory e dico utilizza tutto è giuro abbiamo detto quindi è giuro pene ai text bed in generation e dico utilizza i servizi di e giuro pene ai o gli passo un api chi un deployment l'empoint che voglio usare questo è il classico approccio che userei anche con un semantic kernel quindi ho fatto il deploy adesso non lo vediamo per motivi di tempo però sicuramente lo conoscete perché l'avete ormai visto tante volte ho fatto il deploy di un modello sul mio account azure open ai e a quel punto ottengo un api chi ho il nome del deployment da usare l'empoint corrispondente qui vi dico soltanto quello che voglio utilizzare questo è per la parte di embedding per generare l'embedding del testo e poi per generare anche quello della domanda poi gli dico di nuovo è l'euro pene ai text generation per avere la parte di di fatto di chat competition stesso meccanismo parentesi qui stiamo utilizzando e giuro pene ai perché ovviamente un azure day e quindi ci tenevo a far vedere tutto su azure però in realtà abbiamo il supporto anche per open ai possiamo usare anche lama possiamo usare modelli locali quindi assolutamente configurabile qui avrei corrispondenti with ad esempio open ai invece che azure open ai poi un po di configurazioni su cui adesso non mi voglio soffermare dopodiché per iniziare questo lo andiamo a fare su disco in modo che vi faccio vedere che cosa succede che cosa fa questa libreria e come funziona un meccanismo del genere quindi gli dico che voglio salvare i file su disco voglio usare un vector db su disco e voglio usare la pipeline per elaborazione in background invece di una storia gq di nuovo su disco ok poi vabbè un po di altre configurazioni varie che però ci importano relativamente andiamo ad eseguire l'applicazione e vediamo di cosa si tratta vediamo qual è il risultato questo è quello che in gergo è il frullino 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 tra un po apparirà ovviamente sul secondo monitor la mia mitica ui che come avevo detto non poteva non essere su agger tengo questa di qua e qui è quello che succede in background quindi io a questo endpoint faccio un try it out scelgo un file che ovviamente non può essere che taggia che è poi lo guardiamo anche non è altro che la pagina wikipedia di taggia questi non sono documenti privati ovviamente ma era soltanto per farvi un esempio innanzitutto per parlare di taggia ci mancherebbe altro ma poi per anche avere qualcosa per poter fare delle verifiche sul sul funzionamento questo codice giusto per farvi vedere un pochino strutturato meglio diciamo l'applicazione ma alla fine fa questo fa come vi avevo detto import document a sync quindi esattamente quello che vi raccontavo che vi raccontavo prima nelle slide perciò adesso rimettiamo questa applicazione qui io premo adesso il tasto execute e qui dentro vediamo che parte un'elaborazione viene estratto il testo vengono calcolate delle partizioni vengono poi fatte tutta una serie di operazioni utilizzando una coda che lavora su file system a questo punto il documento è stato elaborato qui ho ottenuto anche un id che cosa è successo se noi andiamo a vedere io in questo caso ho puntato una cartella memory all'interno del mio disco d perché per adesso stiamo partendo su disco avete visto le configurazioni veramente minimali qui mi chiedeva semplicemente il il path gli ho dato questi puntano alla mia cartella al mio disco di tutto qua il resto non ho dovuto fare altro ho eseguito la singola istruzione che vi avevo fatto vedere che cosa è successo qui dentro mi ha creato una cartella files default è il nome dell'indice perché potrebbe averne n quindi potrebbe avere i dati diciamo divisi per che ne so per tenant per azienda per cliente ci sono tante opzioni purtroppo oggi non credo avremo tempo di vederle però qui dentro potrei fare veramente tante configurazioni poi questo è l'id del documento che cosa trovo qui trovo una copia del documento che adesso ve lo apro al volo come detto è il wikipedia di taggia né più né meno quindi la sua pagina ha presa proprio brutalmente dopodiché che cosa ha fatto la libreria ha creato una serie di file ad esempio questo extract txt che è una partizione del contenuto perché sappiamo che su azure su azure open ai ma su tutti i sistemi di open ai abbiamo un limite di token con cui possiamo lavorare per calcolare gli embedding non posso calcolare gli embedding di tutto il documento perché potrebbero superare potrebbe superare il numero massimo di token quindi il documento viene diviso qui vengono chiamate partizioni da altre parti trovate il termine chunk quindi viene diviso in blocchi di un numero massimo di token che vi vado ad indicare quindi qui dentro mi trovo dei txt che corrispondono che contengono la parte corrispondente del mio documento questo è tutto il testo estratto e poi mi trovo ad esempio partition zero mi trovo il primo blocco dove io ho indicato semplicemente come configurazione quanti token ci devono essere per ogni paragrafo questo mi serve per è un l'overlapping sono i token diciamo che si sovrappongono tra un blocco e l'altro sono cose che probabilmente cambieranno anche nelle prossime versioni di kernel memory quindi non mi ci soffermo troppo la parte importante è questa io gli dico che voglio ogni paragrafo al più mille token quindi ogni mille token viene creata una partizione nuova in pratica quindi qui mi trovo i dati corrispondenti qui dentro quindi trovo 0 1 fino a 11 quindi ha creato 12 partizioni poi qui dentro mi trovo questo file che se vado a vedere che cosa contiene è la rappresentazione numerica del del in questo caso sono sul partizione 0 della partizione 0 quindi il vettore in questo caso sto usando un modello che ha 3072 elementi una rappresentazione di numerica che contiene che rappresenta scusate il contenuto semantico della parte di codice della parte scusate di testo corrispondente alla partizione su cui sto lavorando quindi ho tutti questi numeri che poi vengono riversati e di nuovo in automatico non ho dovuto fare niente per gestirlo tramite la coda che orchestra tutto questo vengono riversati vector default in file di questo tipo questo e quindi qui ho una rappresentazione in json dove ho il la parte di testo corrispondente e poi di nuovo la lista dei vettori quindi i numeri che mi interessavano naturalmente questo lo vediamo per farvi capire di cosa si tratta e dove finiscono le cose come e come vengono utilizzate nella realtà non useremo mai il file system per fare questi test cioè scusate per fare questi lavori in produzione perché ovviamente ci sono dei limiti quindi useremo poi servizi di azure ma questo è per farvi capire come funziona effettivamente kernel memory nel momento in cui io ho una configurazione di questo tipo se adesso vado qua faccio un ask teniamo sempre aperto anche questo e gli chiedo try it out quale è la popolazione di taggia premo un execute questo va ad invocare kernel memory a questo punto esegue un rag prompt con questa dimensione abbiamo parlato di retrival argomenti generation e quindi dietro le quinte cosa è successo è stata fatta la ricerca tramite similarità del coseno sono stati estratti privi x chunk o partizioni nel termine nella nomenclatura di kernel memory più significativi e sono stati utilizzati perché era un prompt della serie tu conosci queste informazioni rispondimi e quindi quello che ho ottenuto è stata una cosa del genere qual è la popolazione di taggia e la risposta è questa è di 13.696 abitanti secondo i dati bla 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 aggiornati quindi mi ha dato questa risposta ovviamente non è un documento privato quindi nel titolo della slide abbiamo parlato di documenti privati ma per fare un test per farvi anche poter fare una verifica che le cose funzionino siamo andati a questo livello e qui sotto vediamo anche le partizioni che hanno contribuito a darmi la risposta ad esempio vediamo che nelle varie partizioni quindi nei blocchi di al più mille mille token che sono stati identificati abbiamo ad esempio questo che mi dice che è una relevance di 071 qui relevance il termine generico è di fatto questa è la similarità del coseno come abbiamo detto più ci avviciniamo a 1 più il chunk è considerato corrispondente se andiamo a vedere effettivamente abitanti c'è questo numero e questa è una relevance 071 poi ne trovo anche altre naturalmente con una relevance più bassa che comunque parlano di numeri di di altre informazioni varie queste fa parte ovviamente del gioco diciamo così sa a me decidere se prendere i primi n prendere quelli che hanno una relevance maggiore di un certo valore cosa che dipende dal modello che sto utilizzando e così via però questo avete visto di nuovo tutto automatico perché io anche questa cosa la faccio con una ask a parte che qui riformulo la domanda per tenere straccia della storia questa è un'altra piccola cosa non so se riusciremo a vederla però poi vi lascerò il link al repository github in cui questa cosa è descritta meglio alla fine per ottenere la risposta faccio questo quindi vai tolgo il punto interrogativo finale per risparmiare un carattere e togliere gli spazi finali però tendenzialmente io esattamente come visto nella slide faccio l'ask della della mia domanda e quindi riesco a ottenere esattamente quello che mi serviva e ottengo questa risposta ok quindi qui ha tutto funzionato per adesso tutto bene ok però non abbiamo usato i servizi di azure e adesso abbiamo lavorato su disco e voi potreste dirmi sì grazie lavorare su disco effettivamente è facile perché alla fine se tutto il locale le cose le fai bene e vai cercare qui dentro è finito non devi fare chissà cosa cancelliamo questo cancelliamo questa cartella per dimostrare che non c'è trucco non c'è inganno adesso ritorniamo qua e diciamo non vogliamo utilizzare i servizi di fatto di test vogliamo usare i servizi di azure e quindi che cosa facciamo a questo livello invece che il simple file storage quindi diciamo with azure blobs document storage e concedetemi qui di fare un piccolo copia incolla per passare già dei parametri che avevo preparato io qui gli dico guarda per salvare i documenti usa uno storage e qui gli passo i dati e poi gli do un nome di container invece che usare il simple vector db come detto with azure e qui gli do ai search memory db e quindi voglio usare ai giuri ai search e di nuovo gli passo concedetemi copia incolla gli passo questi dati quindi li passo l'inpoint il tipo di autenticazione la mia chiave mi serve una coda per orchestrare l'operazione che avete visto avviene in background with azure più orchestration l'unica nota che vi faccio a questo riguardo che al momento viene usato non viene usato un service bus per gestire la coda che non viene usato un service bus che potrebbe essere magari la prima soluzione a cui pensiamo vengono usate le code di e dello di fatto del del azure storage tutto qua quindi ti dico di fare queste operazioni passandogli di nuovo la stringa di connessione e quanto tentativi fare prima di spostare il messaggio nella nella coda avvelenata se l'operazione non funziona ok io mi limito a fare questo non cambio una riga di codice un'altra nessun'altra riga di codice se non l'inizializzazione e quindi gli ho detto di andare effettivamente al cento per cento su edge perché prima prima già ci andavo da questo punto di vista ora ho completato la cosa eseguo su disco cancellato la cartella per dimostrare che non c'è trucco non c'è inganno ora ci apparirà nuovamente un'interfaccia di swagger ovviamente qui ma adesso se andiamo a vedere qui notiamo che già facciamo un refresh qui sono apparse sulla coda questo è la coda l'account a cui puntava il mio il mio diciamo la mia configurazione sono apparsi un po di code che sono quelle che corrispondevano corrispondente a quelle che avevamo su disco in quella cartella che abbiamo visto velocemente ora sto usando questo poi qui è dove andremo a vedere che cosa succederà e nei blog container stessa cosa vedremo vedremo qual è il funzionamento quindi ritorniamo qua teniamo aperto questo come prima adesso vediamo che infatti qui si parla di un engine più pipeline mentre prima andavamo su disco andiamo qui andiamo a ricaricare lo stesso documento naturalmente possiamo cari anche adesso magari facciamo la prova anche a caricarne due prima ne abbiamo verificato uno solo però il funzionamento sarebbe naturalmente lo stesso se faccio un execute ora i giri sono gli stessi di prima viene estratto il testo vengono calcolate le partizioni vengono inviati messaggi vengono fatte su una certa coda vengono fatte certe operazioni qui salva i record fa tutto quello che deve credo che abbia finito saving pipeline status ok quindi adesso che cosa ci ritroviamo qui dentro il refre facciamo un refresh quello che prima avevamo su disco a fronte di una semplice di un semplice cambiamento di configurazione ci ritroviamo dentro uno storage di azure memory default come avevamo su disco abbiamo l'id del documento e dentro se guardate questo esattamente quello che avevamo prima su disco quindi il pdf del documento i vari le varie partizioni che sono state estratte esattamente come ci aspettavamo se adesso facciamo un refresh qui ci troviamo default che è il nome dell'indice che abbiamo visto di nuovo su disco proviamo ad aprirlo facciamo una ricerca adesso ancora qui dice zero perché qui ci mette un pochino per aggiornarsi però anche una ricerca senza parametri cosa ci mostra che dentro l'indice noi abbiamo una serie un payload in json e poi gli embedding che sono quelli che prima abbiamo visto salvati in quel file nella cartella underscore vector su disco ora sono finiti dentro azure i search che sappiamo ormai da un po di tempo ha il supporto nativo per la ricerca vettoriale e quindi sfruttiamo quello che diciamo è il una caratteristica nativa dell'engine a questo punto prima parola refresh eccolo qua nel frattempo si è aggiornata anche questo e qui abbiamo i 12 documenti che se vi ricordate corrisponde alle 12 partizioni quindi siamo completamente andati su di su e ai search ora andiamo qua esattamente come prima facciamo un try it out e gli chiediamo di nuovo quale è la popolazione di taggia execute esattamente come prima viene fatto il radio prompt e otteniamo di nuovo la risposta con i dati che di fatto sono gli stessi di prima che abbiamo però in questo caso siamo andati su azure quindi lo ripeto ma perché secondo me è il punto di forza di una libreria del genere cambiando solo una configurazione io ho cambiato completamente di fatto dove andare a farla lavorare e questa secondo me questo secondo me è un aspetto interessantissimo anche perché adesso noi stiamo vedendo azure perché come detto questo è l'azure day però io posso decidere di andare di salvare su un database vettoriale come quadrant posso salvarli su un postgres addirittura anche su sql server che non ha un supporto nativo però ad oggi non ha un supporto nativo per la parte vettoriale però posso utilizzarlo comunque posso andare a utilizzare altre strutture posso usare redis posso sfruttare tante possibilità che ho a disposizione grazie a questa libreria semplicemente cambiando quella configurazione facciamo giusto un test caricando un altro documento per dimostrare che ovviamente continua a funzionare come ci aspettiamo anche se le cose si complicano un po' pdf di sanremo execute questo è un po più grosso quindi impiegherà un pochino più di tempo divide le varie partizioni come detto mille è il numero massimo di token la seconda diciamo cerca il chunker contenuto nella libreria cerca di dividere il testo fermandosi su frasi di senso compiuto comunque segni di interpunzione quindi tipicamente io avrò token avrò partizioni di un numero con un numero minore di di token rispetto a quello che ha indicato credo che abbia finito quindi se adesso ne andiamo a vedere qui dentro facciamo torniamo indietro qui ci troviamo un altro documento quindi scusate questo è lo stesso di prima quindi qui dentro troviamo la parte di sanremo e se andiamo a vedere qui si è aggiornato 22 stanno arrivando pian piano gli altri documenti dovrebbero essere 30 mi sembra quelli di sanremo pian piano aumenteranno anche questi pian piano che si aggiorna questa questa interfaccia però i dati dentro dovrebbero già essere disponibili per cui se io adesso qui invece provassi a chiedere la popolazione di sanremo come prima stesso giro in questo caso mi dice la popolazione di sanremo è di 53 114 abitanti quindi funziona effettivamente come come vi raccontavo e quindi sono in grado di come detto di avere più documenti che posso posso andare a gestire semplicemente variando la mia la mia configurazione più documenti che posso gestire su edge semplicemente variando la mia configurazione e questo secondo me come vi dicevo è il punto di forza di una libreria di questo tipo oggi ovviamente non avevo abbiamo il tempo di farvi vedere tutto in realtà c'è molto di più il mio obiettivo della sessione di oggi è quello appunto di farvi vedere quanto con una libreria di questo tipo possiamo dimenticarci passatemi l'espressione di quello che c'è sotto di quello che c'è sotto e concentrarci veramente sulle funzionalità un po come abbiamo visto durante la keynote noi ci mettiamo alla piattaforma voi la rendete migliore la piattaforma è quella di azure kernel memory ci permette di sfruttare i servizi della piattaforma sulla base di questo noi possiamo creare le nostre applicazioni grazie a diciamo una serie di facilitazioni di strumenti che ci rendono veramente semplice l'integrazione di tutto questo perché come detto immaginate di farvelo a mano già solo gestire la coda i retrai il calcolo degli embedding eccetera non è impossibile ci mancherebbe altro però è qualcosa che richiederebbe tempo questo lo facciamo cambiando una configurazione tra l'altro ora qui l'abbiamo usato esplicitamente per farvi vedere effettivamente come funziona ma di questa libreria tanto poi vi lascerò anche naturalmente il link al reposito di github ufficiale c'è anche già una versione as a service vera e propria che prendete deployate e vi espone gli endpoint che vi ho fatto vedere più altri naturalmente per andare a gestire anche altri altri scenari particolari addirittura c'è anche un container docker già pronto lo prendete lo mettete su io ve l'ho fatto vedere così anche perché ci tenevo a mostrarvi che sono veramente due righe di codice però è già tutto pronto veramente chiave in mano questo è un vantaggio interessante quasi un servizio che noi usiamo quasi come fosse un gpt specializzato per questa questa funzionalità per intenderci questo a me appunto piace piace molto come come funzionamento e come detto si può personalizzare in tanti modi perché questo ve lo accenno soltanto poi non abbiamo più tempo vi dico soltanto che io in questo caso quando vado a caricare i dati i dati mi vengono posti su una coda e poi salvati su uno storage di azure per poter calcolare gli embedding naturalmente e quindi me li ritrovo qui dentro però magari ho questi dati già ce li ho voglio magari che una volta che ce l'ho da qualche altra parte le informazioni non voglio ricaricare dentro questa cartella memory tutti i file che mi vanno occupare spazio voglio andare a magari a personalizzare questa cosa e quindi questi file non voglio che vengano salvati anzi temporaneamente lo dovranno essere l'abbiamo detto perché altrimenti non può non possono essere fatte tutte le altre operazioni ma quando ho finito io non voglio tenere una copia di fatto dei miei dati perché non è altro che una copia così come queste informazioni sono sono altro che estrazioni a partire da un pdf piuttosto che un doc perché tra l'altro un'altra cosa che non ho detto c'è il supporto per n formati doc excel powerpoint immagini usando uno cr si possono personalizzare i tipi di dati supportati markdown il json ce ne sono veramente tanti immaginiamo che io questi dati non me li voglio riportare qui dentro che cosa devo fare di nuovo questo ve lo faccio soltanto vedere al volo io vado a personalizzare questa aggiungo una cosa di questo tipo perché la pipeline abbiamo parlato di che kernel memory un orchestratore quindi lavora con una pipeline quello che abbiamo visto qui questi sono messi sono tutte operazioni abbiamo un orchestratore una pipeline vera e propria che viene gestita io qui dentro gli dico che quelli che ha una serie di step che sono quelli come vi ho raccontato di salvataggio nella coda copia nello storage estrazione datica con degli embedding e così via io gli dico che come ultimo step voglio cancellare i file temporanei che sono stati generati e di nuovo senza nessuna configurazione sia che vada su disco che vada sul blob storage che vada su amazon s3 novità tra l'altro proprio di oggi la il commit che è stato fatto non sto se dovrebbe essere s3 with non so non l'ho ancora verificato il nome che ha dato se l'ha reso disponibile però amazon mongo db scusate questo c'era il ad esempio posso salvare i dati su mongo su mongo db atla su mongo db è stato fatto un commit anche c'è una pull request quindi scusate mi stavo confondendo ho il supporto anche per andare per salvare i dati su mongo db c'è stato un commit però non ho ancora verificato se nel nell'aggiornamento di cinque ore fa è stato pubblicato già come pacchetto nuget però lo trovate su repository c'è il supporto per andare su amazon su s3 come come storage quindi trovate anche quello come detto le destinazioni aumentano anche nel corso del tempo una volta che io voglio cancellare i file semplicemente definisco che negli step voglio questo indipendentemente da quale sia veramente il tipo di storage che ho selezionato in automatico mi vengono cancellati di nuovo capite quanto è potente un sistema del genere vado a configurarlo con un supporto che continua ad espandersi per cui continua a beneficiare di tutti i miglioramenti che vengono fatti volta a volta quindi questa libreria a me piace veramente tanto perché ci aiuta da tutto da questo punto di vista e quindi permette di concentrarci come dicevo prima su veramente quelle che sono le funzionalità della nostra applicazione senza doverci preoccupare di comandare a implementare tutto quello che c'è sotto ok bene il tempo come sempre è tiranno quindi non abbiamo tempo di approfondire ulteriormente ma come vi dicevo a me interessava mettervi anche una pulce nell'orecchio su quelle che sono le funzionalità su quanto è semplice creare una soluzione del genere il codice che avete visto in realtà una versione un pochino più complessa però l'idea di base è la stessa lo trovate a questo sul mio repository il secondo è il repository ufficiale di kernel memory una pagina di documentazione che non si nega mai a nessuno e poi un gruppo discord molto attivo in generale su semantic kernel ma che è anche una parte dedicata proprio a kernel memory dove c'è uno lo sviluppatore di fatto davis lucato lo sviluppatore di microsoft che che il codowner del progetto risponde in prima persona se avete domande lo potete assolutamente trovare ok detto questo io vi ringrazio veramente per l'attenzione non so se abbiamo tempo per domande ma in ogni caso trovate i miei riferimenti se avete bisogno anche in maniera offline trovate tutti i miei contatti scrivetemi io se posso vi rispondo un favore che vi chiedo votate assolutamente la sessione perché i vostri feedback sono quelli sono quello che ci serve per capire il se quello che stiamo facendo va bene e ne siamo andando nella direzione giusta oppure no quindi dateci un feedback appena potete se potete vi ringrazio